Grazie a Whatsapp, Messenger, Instagram, Direct, il brand si è avvicinato tantissimo a noi, a noi consumatori, quindi anche noi fotografi possiamo stare veramente, veramente vicinissimi, facciamo un po' paura così vicini, ma possiamo stare veramente vicini ai nostri consumatori. E stando vicini ai nostri consumatori è ovvio che quando dialoghiamo con loro succede una cosa fighissima, succede che le persone, i nostri possibili clienti si agganciano di più a noi, perché quando tu mandi una mail e la persona ti risponde anche dopo due ore, si è già raffreddato il piatto. Quando invece un cliente ti manda un Whatsapp, un Messenger, un messaggio su Instagram Direct, tu sei lì sul pezzo, gli rispondi, si crea già subito il link perché quella persona magari ha bisogno di chiederti un approfondimento sulla gravidanza, ha bisogno di chiederti un dettaglio sui tuoi servizi di matrimonio, insomma essere lì, conversare con queste persone è strategico. Grazie. 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 Grazie.